Solennità e musica per il capitolo della Cattedrale di San Pietro. L'ensemble musicale bolognese San Pietro ha inciso per Urania Records una raccolta di brani di musica sacra inedita proveniente dall'archivio musicale della Cattedrale Metropolitana di Bologna. Un viaggio musicale attraverso i principali appuntamenti sacri della città bolognese dal Natale alla Pentecoste passando per la Solennità di San Petronio. Autori noti e meno noti come Giacomo Antonio Perti e Giovanni Battista Martini e quanti operarono nella cappella musicale della Cattedrale che spesso fu trampolino di lancio per la più nota cappella musicale di San Petronio. Le musiche sono state tutte tratte dal fondo musicale del capitolo metropolitano di San Pietro, oggi custodito nell'archivio generale arcivescovile, una raccolta di manoscritti musicali che conserva praticamente intatte tutte le partiture in uso nella Cattedrale Felsinea dall'inizio del XVIII secolo alla fine del secolo successivo. Nel CD viene anche proposta la ricostruzione di una messa completa come doveva essere eseguita in Cattedrale in un giorno di festa, in particolare per la festa di San Petronio. L'opera inedita è di Ferdinando Bertoni che fu attratto a Bologna dalla presenza di padre Martini, grande maestro di numerosi musicisti e poi divenne maestro di cappella nella Basilica di San Marco a Venezia.